Incominciamo così Respiro ma sono, devo adoperare un termine che è molto in uso dei giovani ma ai miei tempi non si diceva sono molto incazzato perché questo articolo mi ha profondamente amareggiato Chi lo legge che cosa pensa? 11 farmacisti nei guai Intanto si tratta di un farmacista solo e di una farmacia sola Che sia bello che è quello che è successo? Non lo so O che si tratta di 43 mila euro in 16 anni Quindi è una cifra 43 mila divisa in 16 anni Quello che mi ha amareggiato è vedere che il direttore del giornale Adisi a cui mi rivolgo E se il direttore qua di Gala gli mandasse questa cassetta al direttore mi farebbe una cortesia Perché scrivere un titolo del genere a tutta pagina fa pensare che anche a Cattamanene che vi parla probabilmente E' uno sputtanamento, permettetemi questo termine, è uno sputtanamento della categoria Ora non tutti fanno queste cose Non tutti fanno queste cose Certo che non è piacevole Non è piacevole, bisogna vedere quello che succede Soltanto che con una magistratura che va alla lentezza con cui va Questa gente qua fino a che non ha la sentenza E' sputtanata, è sputtanata Ma sono sputtanato indirettamente io e tutti gli altri miei colleghi Sono arrivato al caffè Trentino questa mattina Quello che vi dico è la verità Come mi potevano accogliere? Ah ah! Eh! E' bello voi altri farmacisti come al solito Cosa volete che dica io? Cosa volete che vi dica? E' vero La categoria dei farmacisti è sempre stata tenuta Non so dirvi come Rispettati sì, ma in certo senso il monopolio, i fai soldi eccetera 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 Al direttore, non che se sembra vera, per conto mio E' a coloro che li sta vicini ti dici, guarda, dai che è una remenata a quella categoria lì, che sporchi, dal monopolio, e so, e so, e so, e so, e so, e so, e so. Io non ho mai visto un articolo con su scritto Le Coop hanno o altre categorie, non ho mai visto un articolo a tutta pagina come ha fatto oggi il direttore Giovanelli. La ringrazio direttore, molto gentile, veramente. Allora io le posso anche elencare un'infinità di farmacisti che sono a posto e che non fanno queste cose, che non fanno queste cose. Allora, cosa diranno i farmacisti che non hanno fatto queste cose? Saranno contenti, secondo lei? No. Io oggi sono, oltre all'incazzato, anche amareggiato, amareggiato, amareggiato perché si rimane male, si dice, ma sì, allora si mi incontra e dire, eh, per fare anche il Tamanini, date un po' di niente, fa parte di quella categoria lì, se non lembrò anche quella lì, le mona, le mona, perché bisogna fare così in Italia, bisogna fare come quelli lì, perché se no, non te sei, non te sei, non sei al pazzo, non te sei cosa, bisogna robar, robar. Allora, io volevo rivolgermi a chi mi ascolta e che mi conosce, ma secondo voi il Tamanini lo mettereste in questa categoria di farmacisti o no? A me interessa sapere questo, io credo di aver sempre agito nel migliore dei modi, di aver dato il massimo della mia capacità nei limiti dei possibili e di aver cercato sempre di essere una persona onesta. Oddio, sapete, a lavorare ci si può sbagliare. Vi do un esempio, come si può sbagliare. Allora, non bisogna anticipare farmaci se non c'è la ricetta. Siamo di sabato e di domenica. Viene un operaio che ha dimenticato di prendere il prodotto per la pressione e chiede cortesemente se gli possiamo anticipare il farmaco, parlo di sabato pomeriggio, e che ci avrebbe portato la ricetta il lunedì. È vietato. Truffa, truffa, truffa e poi truffa. Io lo faccio. Mi spiace per i signori dell'azienda o per il direttore giovanelli. Perché l'operaio che si è dimenticato di andare a strano, che non ha le farmacie, che non è un signore, che non è ricco, che non è ricco, non può andare perché la guardia medica se il va, gli fa molto di storie, poi deve perdere tempo, va alla guardia medica, la guardia medica non c'è perché è in condotta e questo qui non può stare due ore per farci per scrivere il farmaco per la pressione. Allora c'è la mia coscienza. Io anticipo il farmaco, tengo da una parte la fustella e il lunedì quando mi porta la ricetta gliela attacco su. Ma io sono fuori posto perché non potrei farlo. Perché se viene la guardia di finanza in quel momento io sono un porco truffatore ladro. No, io non sono un porco truffatore ladro, sono una persona di buonsenso che va dalla parte dell'operaio dall'altra parte, che si è dimenticato, che non hai 30 euro per prendere quel farmaco e pagare anticipare che poi gli restituisco i soldi. Ci sono dei casi in cui oggi purtroppo ci si trova al limite e avvengono di sabato e di domenica. Qui la cosa, quello che è successo a Mori è una cosa proprio complicata e veramente mi dispiace. Mi dispiace perché credo che sia successo così. È successo che un diabetico che ha diritto ad avere il pungiditto, le strisci eccetera, il medico gli fa la prescrizione. Cosa può essere successo? Che il paziente ha dato in farmacia, ha prelevato diciamo il pungiditto o le strisci e ha detto i pungiditto non mi servono. Non mi servono. Cosa può essere successo? Può essere successo che il farmacista non gli ha dato il pungiditto ma li abbia messi ugualmente in fattura. Non è una bella cosa. Non si fa. Lo capisco. Ma non fanno tutti così i farmacisti. Ma i notai sono tutti ladri? Ma i medici sono tutti ladri? Ma i fotografi che sono tutti ladri? E i professori sono tutti ladri? E le cop? Oh le cop per l'amor di Dio, le cop non le ladri? Quei no. Allora io dico questo articolo di oggi che dice 11 farmacisti nei guai mi fa male e mi fa pensare che il direttore Giovanetti non l'abbia fatto così in maniera superficiale. L'ha fatto con l'intenzione precisa di colpire i farmacisti. Mi spiace direttore ma io sono convinto che lei l'abbia fatto con questa intenzione. E non è certo una cosa bella da parte di un direttore del giornale. Grazie.